Il Verona ha ottenuto un buon pareggio, seppure interno, contro l'Inter. Buono soprattutto in considerazione della rete di Scifo, che aveva portato in vantaggio i neri azzurri, e dell'espulsione di Di Gennaro. Sotto di un gol e in dieci, il Verona ha ottenuto l'1-1 con Fontolan. Ed ecco infine gli altri gol della giornata. Cominciamo con...